Luca Garofalo, anche tu oggi è l'inaugurazione del pronto soccorso di Crotone, ma proprio all'ingresso, previsto per l'ingresso poetonale, c'è una barriera architettonica abbastanza evidente che non ti ha consentito di poter entrare. Mi ha consentito di entrare, soprattutto in un momento corto, dove hanno bisogno principalmente di chiamare, io non lo sento. Se tu dovessi dover entrare qui in autonomia, avessi comunque bisogno di qualcuno che ti... Grazie. 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 Grazie.